Hanno rilasciato il trailer di Poppy Playtime Capitolo 4? Oh? Eh? Benvenuti e ciao amici! Bentornati nella casa del Clang! Io sono Toby! E ho appena finito di editare un video! Ma... Ehi, aspetta un secondo che... Ho sentito un rumore! Ciao, Toby! Ciao, Toby! Cutnap? Dog Day? Cosa ci fate qui, a casa mia? Mi... Mi fa davvero piacere che siete venuti! Toby, forse tu non lo sai! Ma è appena uscito il trailer di Poppy Playtime Capitolo 4! Poppy Playtime Capitolo 4? Beh! Si è uscito il trailer! Cosa aspettiamo a vederlo? Forza! Bene amici! Qui... C'è il video di Poppy Playtime Capitolo 4! Il teaser trailer! Non vedo l'ora di vederlo! E voi? Scrivetelo nei commenti se l'avete già visto e se vi è piaciuto iniziamo a fare un po' di teorie! Cutnap! Aspetta, Cutnap! Mi fai male! Lascialo stare, Toby! Cutnap è sempre cattivo e arrogante! Va bene, ma cercate di farmi vedere il video, ok? E allora, amici, iniziamo subito! Direi di vedere... Prima vediamo il trailer nella sua interezza, lo vediamo completo e poi dopo ci ragioniamo sopra! Che ne dite? Ok! Bene! Diamo subito... il via! Ehi! Scusatemi! Scusatemi! Ma questo è uno Smiling Creators! Oh! La vedo davvero brutta! Ma Smiling Creators? Quei maledetti stanno sempre in mezzo! Già, è uno Smiling Creators! Un vostro amico! Come si chiama? Quello verde! Hoppy Hopscotch! Il coniglio verde! Quello invidioso di... Ehi! Non si dice! Qui... Vedo che qui c'è della lore tra Cutnap e Dog Day! Della lore che non c'è neanche in Poppy Playtie! Cutnap! Dopo mi spiegherai perché è un invidioso! Il nostro Hoppy Hopscotch! Il coniglio verde! Dai! Riprendiamo! Ehi! Ma quello è Dog Day! Sono vivo! Sì! Sono ancora nel cast! Oh sì! Ma non eri morto? Sono contento Dog! Te lo meriti! Potrai continuare la tua carriera! Ma sono la mia famiglia! Devono saperlo! Ma cosa? Aspetta un secondino! Aspetta un secondino! Cosa stai facendo? Credo che... Si sta mangiando! Bobby! Bobby! Bobby Hug Bear! No! Aspetta! Bobby Bear Hug! Giusto? Sì! Bobby Bear Hug! Ma sei diventato cannibale! Ah! Chissà com'è fatto a sopravvivere! Comunque continuiamo! Allora continuiamo! E... Aspetta! Non c'è soltanto Bobby Bear... Cioè... Bobby il... Bear Hug! Bear Hug! Ci sono anche altri Smiling Greeter! Giusto ragazzi? Vabbè! Continuiamo! Che cosa? Ma che cos'è quello? Oh! Oh bambino! Che cosa? Un altro Smiling Greeter! Ehi! Guardate! Ci sono tutti gli Smiling Greeter! Ci sta Crafty... Crafty Corn! Kirky Kitchen! E tutti gli altri! L'avete visti? Quattro! Il capitolo quattro! Ed esce a gennaio! Siamo vicini! Beh! Che dire amici! Avremo presto Poppy Playtime! Direi adesso di... Riprendere il trailer! Ok? Va bene! Allora... Come abbiamo visto... Inizia che c'è uno Smiling Greeter! Uno Smiling Greeter verde! E c'è Dog Day! Ci sono io! Che bello! Che però... Fai comunque una brutta fine! Già! Era troppo bello! Per essere vero! Fermiamoci un attimo! Come possiamo vedere ci sono altri vari Smiling Greeter! C'è Catnap! Sì! Ci sono anch'io! Vicino a Dog Day distrutto! Come sempre! Oh! Ma questo è bruttissimo! E poi ci sono il... Come si chiama? Kicking Chicken! Kicking Chicken! Kicking Chicken! Ci siamo capiti! C'è Hoppy! Hop Scotch! E... Come si chiama? Questo non lo so! Poi c'è l'elefante o l'unicorno! No! L'unicorno! Come si chiama? Crafticorn! E poi non mi ricordo l'elefante! Sinceramente non me lo ricordo! E poi c'è Hug Bear! Quindi già vediamo parecchi membri del cast degli Smiling Greeters! E sembrano tutti... Morti! Tranne Dog Day! Dog Day come mai sei vivo? Ah non so! Non so! Forse ci sono altri Dog Day! Forse questo... È un altro Dog Day! Boh! Continuiamo! Ehm... Allora... Come possiamo vedere... Dog Day si avvicina... Cammina... Da notare che si trova in un posto molto molto buio! Ed eccolo che si avvicina a Bobby Hug Bear! O Bear Hug! Bear Hug! Ehm... Ma cosa? Dog Day! Cosa stai facendo Bobby? Avevo fame... Mi scusa... Schifoso! E poi dicevano che sono io il cattivo! Ma cosa? 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 Ma perché? Devi mangiare! Perché deve essere così magabro? Ah! Ragazzi se avete fame ho dei toast nel frigorifero! No! Novi nazi! Ah vabbè! Ehi ragazzi guardate! C'è la pecora nera qui! Già! C'è la pecora nera! Ma una pecora nera! Che strano! Come potete vedere si sta muovendo! Ha attaccato Dog Day! No! Io credo che gli abbia dato un bacino! Nah non credo che gli abbia dato un bacino! Cutnap! Cosa stai dicendo? Si è proprio buttato addosso! Così come Dog Day cercava di mangiare il povero Bobby Il nuovo critter gli è saltato addosso per mangiarlo! La cosa è veramente raccrapicciante! Guardate quanti giocattoli! Come potete vedere ci sono tanti tanti giocattoli! Cioè! Ne sono davvero tanti! Mmm! Beh! Amici! C'è una situazione che dobbiamo analizzare! Guardate qui quanti giocattoli! C'è un cutnap! Ci sta... Addirittura quel giocattolo! Come si chiama? Il gatto... Il gatto ape? Cane ape? Gatto ape? Non mi ricordo! Il cane ape! Il cane ape! E poi c'è un altro cutnap! E c'è forse anche i vanghi qui in mezzo? Ci sono veramente tutti! Credo che ci siano tutti! Forse secondo me c'è anche i kissy missy qua in mezzo! Boh! Anche il bruco! Beh! Ritorniamo all'inizio! Allora! Come vediamo il video è molto interessante! E ci mostra chiaramente che l'ambientazione del nuovo capitolo sarà molto più macabra rispetto agli altri capitoli! Ci fornisce quindi numerosi elementi da prendere in considerazione questo trailer! Allora... Come possiamo vedere l'ambientazione è macabra! Ci sono degli scatoli! Che chissà forse magari si preparavano a vendere questi giocattoli che hanno costruito! Se noi ricordiamo la storia principale la playtime, la fabbrica della playtime era una specie di Jurassic Park dei giocattoli! Cioè le persone pagavano mi pare 2 dollari e 99 per vedere la fabbrica! E poi farsi un'idea! Forse magari cercavano investitori! Perché si fa così quando devi... Ve lo spiego! Quando tipo devi... Devi vendere un oggetto! Devi vendere che ne so! Devi far vedere la tua azienda! Devi sempre far venire degli investitori! Comunque funzionava una specie diciamo di parco di attrazioni! Anche se non era un parco giochi! Era una specie di Jurassic Park! Forse può per mostrare questi giocattoli vivi? Chi lo sa! Ma ora vedo che ci sono degli scatoli! Quindi si preparavano proprio alla vendita di pupazzi! Beh... C'è da dire poi che la storia dov'è che era rimasta? Allora noi abbiamo fatto soltanto un capitolo di Poppy Playtime! Ve lo lascio il link qua sopra! E in questo capitolo di Poppy Playtime abbiamo giocato la prima parte in cui io andavo dentro la fabbrica e incontravo Aggy Vaggy! O Uggifuggy! 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 Non mi ricordo come si pronuncia! Se ve lo ricordate scrivetelo nei commenti! Quindi incontravamo Uggifuggy! Uggifuggy! Uggivaggy! Lo chiamerò ora Uggivaggy! Se mi sbaglio perdonatemi! Perdonatemi! Non mi ricordo come si chiama! E finivamo con poi incontrare Poppy! La bambola appunto di Poppy Playtime! E basta! Poi ci sono altri capitoli! E quindi ci sono... La storia si è spostata! C'è tipo il secondo capitolo dove sta tipo Mammy Loglang! Longlegs! Longlegs! Poi il terzo capitolo più figo secondo me è quello dove ho visto anche multi gameplay su YouTube! Dove c'è Catnap! Ci sono io! Esatto! E c'è anche il signor Dog Day! Yeehoo! Che viene poi diviso in due parti! Oh! Non ti preoccupare so via la vita Dog Day! Allora! Quindi! Ora notiamo già che Dog Day è vivo! Come possiamo vedere sta qui! Andiamo un pochino avanti perché altrimenti è brutto! Possiamo vedere Dog Day è vivo! Quindi probabilmente... Questo sicuramente non è Dog Day che abbiamo lasciato nel terzo... C'è che si trova nel terzo capitolo! Per chi ha giocato al terzo capitolo ha visto i video del terzo capitolo! Ma è un altro Dog Day! Un Dog Day o uno Smiling Creater più piccolo come posso dire! C'erano qui i mini Smiling Creaters! Probabilmente uno di quelli! Chi lo sa! Vediamo che è scappato! Vediamo che ci sta anche un piccolo Catnap! C'è bello! Esatto! Esatto! Ora! Se Dog Day è vivo! Ci sono altri giocattoli che sono morti! E vediamo poi inoltre che man mano che andiamo avanti nella fabbrica della Playtime! Sembra che la fabbrica... La fabbrica vada a deteriorarsi! Ora! O la fabbrica va a deteriorarsi perché magari passa il tempo! Ma questa è una sciocchezza! Oppure perché ci avviciniamo più verso l'oscurità! Che ha preso possesso di questo posto! Oppure ancora... Perché magari le prime zone che abbiamo esplorato... Cioè che si esploravano nel gioco dei Poppy Playtime! Erano le zone quindi legate alla clientela! Alle persone! Cioè quelle che frequentavano comunque anche le persone! Magari quelle che erano meno coinvolte nel progetto Playtime! No? E quindi magari erano più colorate! Mentre invece andando più nel fondo, più nel profondo... Vediamo appunto questi ambienti più oscuri! E così via! E questo quindi... Questo è quindi quello che abbiamo visto! Ora! Vediamo che... Quindi Dog Day! In qualche modo c'è questo Dog Day che sta sopravvivendo! Quindi lui è uno di quegli animaletti! Come possiamo vedere qui si guarda in giro e poi cerca di mangiare! E sta secondo me mangiando... Bobby! Per il semplice fatto che essendo... Noi sappiamo che gli Smiley Creators sono comunque delle creature biologiche! Cioè degli esseri viventi tra virgolette per metà biologici! Non sono dei robot! E quindi magari sono un po' come i bambini! Quindi hanno bisogni fisiologici! Cioè magari mangiano... Vanno in bagno e fanno la cacca! A proposito! Se non avete ancora visto il nostro fantastico video! In cui affrontiamo la cacca! Entriamo in un gabinetto! E facciamo pazzie! Dovete assolutamente recuperarlo! Soprattutto voi che non l'avete visto! E soprattutto voi che non siete iscritti! Iscrivetevi al canale! E recuperate il video più epico della nostra storia! Il video dove affrontiamo un'avventura epica nel mondo della cacca! E magari... Chi lo sa! È anche lì che finisce la cacca dei Smiley Creators quando finiscono di mangiare! Detto questo... Vediamo quindi... Tornando quindi al nostro Dog Day! Quindi soprattutto mi rivolgo a voi non iscritti! Torniamo di nuovo a Dog Day! Dog Day possiamo vedere che sta dilettando nell'arte cibatoria! L'arte del mangiare! È anche un'arte cannibale! Perché sta mangiando un suo simile! Uno Smiley Creators! Cavolo Dog Day! Sei davvero complessato! Ma non è colpa mia! Ora... Notiamo che a fianco a Dog Day già c'è il nuovo personaggio! La nuova creatura! Che però non ci viene mostrata bene! Almeno credo! Vediamo se riusciamo a boccarla! Cosa cavolo ho combinato? Aspettate un attimo! Ok! Vediamo un attimo se riusciamo a farla... No! Non si vede! Vabbè! C'è nessuna copertina! Quindi... Una pecora nera! Ora... Chi è questa pecora nera? Che sia uno Smiley Creators? Forse è Olly! Quell'aiutante misterioso che vedavamo, che ascoltavamo nel terzo capitolo! Quello che ci aiutava a completare, mi pare, le ultime fasi del gioco del terzo capitolo! Che non abbiamo ancora giocato! E perché è assaltato addosso a Dog Day? Sicuramente no, per dargli un bacino, vero amici? Voi cosa ne pensate? Io... Credo che mi voglia tanto bene! A Dog Day piace essere baciato! Dai, su! Non diventate strani! Aiutatemi a creare delle teorie! Dopotutto sono le vostre persone queste! Ah, non lo so! Allora, evidentemente la pecora è saltata su Dog Day per mangiarlo, per mangiargli la faccia. Quindi, evidentemente, anch'essa è una creatura biologica che ha bisogno di mangiare. Ma chi è questa pecora nera? Che sia il prototipo? Non credo, ovviamente. Magari è un altro burattino nelle mani del prototipo, così come lo era Catnap. Da quello che possiamo vedere è una sorta di Smiling Critter, ma è diverso dagli altri, perché è così oscuro. È una pecora. E dopo l'analizzeremo meglio. Quindi, la pecora si butta su Dog Day. E la pecora ovviamente fa lo stesso, entrambi mangiano. Quindi, questo ci dimostra, forse, che gli Smiling Critters mangiano, possono manciparsi. Che poi, se ci pensate, non è neanche un'idea tanto sbagliata, perché una cosa del genere l'avevano fatta quando entrano nel terzo capitolo dentro Dog Day grande. Un po' si cibano delle sue parti interne, per dirlo in modo un po' macabro. Non avere paura a Dog Day. Era soltanto... Era soltanto un gioco. Ecco, allora, quindi, a questo punto dobbiamo capire se ci sarà il prototipo in questo capitolo, perché tanto può essere che in questo capitolo... Attenzione, c'è un tipo una macchia di sangue. Questo rende ancora più veritiera la teoria secondo la quale... Cioè, che poi non è una teoria, ma che ovviamente i Smiling Critters sono dei veri e propri creature, che hanno un po' tutte le caratteristiche degli esseri viventi, quindi hanno anche il sangue. Cioè, scusatemi, succo di pomodoro, succo di pomodoro. A questo punto c'è da porsi una domanda. Allora, il prototipo... Ci sarà in questo gioco? O questo sarà l'ennesimo mid-boss prima del boss finale che magari vedremo in Poppy Playtime quinto capitolo? Non lo possiamo sapere. Secondo me potrebbe essere un ulteriore burattino, e ci racconterà un'ulteriore storia riguardo agli Smiling Critters. Magari ci sono degli Smiling Critters che sono stati messi fuori dalla produzione, perché magari presentavano uno stile che non poteva essere venduto, cioè non poteva essere messo sul mercato. Come possiamo dire, questo è più oscuro come Smiling Critter. O magari è uno Smiling Critter costruito da un scienziato pazzo, magari un amante dell'horror. Chi lo sa? Quindi, prototipo... chi è a questo punto? Possiamo già dire chi è prototipo? No, lo so. Fatto interessante, lui si alza e vediamo una faccia quasi oscura. E vediamo inoltre anche altri giocattoli che abbiamo visto durante... cioè che si vedono durante un po' tutta la storia di Poppy Playtime. Inoltre vediamo questi enormi container. Ora, questi o sono dei container che magari contengono più scatole di giocattoli, molto probabile, o forse sono delle vere e proprie gabbie che contengono magari delle nuove creature da affrontare, magari dei mid-boss, prima del boss finale che sarà tipo questa... questa pecora maledetta. Chi lo sa? O magari in una di queste casse sono stati racchiusi, sono stati rimessi qui quei personaggi di Poppy Playtime che erano stati rapiti dal prototipo. Magari la stessa Kissi Missi si potrebbe trovare qui. Notiamo che sui container ci sono questi quadrati, queste figure, questi simboli, questi quadrati, che vanno l'uno dentro l'altro. Cosa significa tutto questo? Qual è il misterio che si nasconde dietro la Poppy Playtime? Perché dico Poppy Playtime? Vabbè. E il prototipo? Chi è? Che sia Elliot Ludwig, lo stesso fondatore della Poppy Playtime, che per qualche strana ragione, come magari potrebbe essere, è finito per diventare il soggetto stesso dei suoi esperimenti? Ricordiamoci che alla fine la Poppy Playtime, se mi ricordo bene, ma se mi sbaglio scrivetelo nei commenti, faceva degli esperimenti sui bambini. Tanto è vero che sono nati i Smiling Creators e anche altri giocattoli. Perché si cercava appunto una soluzione per creare una forma di vita perfetta. Adesso non ricordo. Ma cosa sta succedendo dentro la Poppy Playtime? E inoltre il prototipo potrebbe essere questa luce rossa qua sopra? Vediamo di nuovo. C'è una luce rossa, magari una bocca gigante, non lo possiamo sapere. Che il prototipo non sia Elliot Ludwig, magari un po' come William Afton che diventa Pink Trap, ma magari è un'altra cosa, un'altra, magari una creatura fatta, composta da tutti i pezzi dei giocattoli. Magari una creatura nata dalla sofferenza, della depressione, dall'oscurità, appunto che hanno subito tutti i giocattoli di cui si è formata, diciamo di tutti i giocattoli che gli hanno prestato le parti per appunto crearla. Non lo possiamo sapere, amici, ma una cosa è certa. Il capitolo è vicino e uscirà a gennaio. Io sono davvero emozionato di provarlo e voi fatevelo sapere nei commenti. Qui è Tobi con Cutnap e Dog Day, dalla casa del Clang, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Ciao.